Sì, non ci vado fuori. Inizio di questo... Zona aperta, Fever. Occhio al sole. Marine, proteggete i civili. Armi pronte. Sì, non ci vado fuori. Sì, non ci vado fuori. Sì, non ci vado fuori. No, no, ferma! Ferma, Solt! È un ordine! Sergente! 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 Soldato, indietro! Torniamo giù! Sta indietro! È ancora laggiù, Solt. Torniamo indietro. È inutile, signore. L'abbiamo abbandonato. Non c'era più niente da fare, capitale. Ti avevo dato un ordine diretto! Sono il pilota della nave. Mio dovere è riportare tutti indietro. Sono io a decidere quando si parte. Non dovevamo neppure scendere. Non spetta a te decidere. La missione prima di tutto. Parole di Omar, non mie. Ci sono anche i miei uomini, Solt. Salvo entrambi. Capitano! L'ha deciso il sergente. Non era costretto, caporale. Due secondi, Solt. Gli bastavano solo due secondi. Altri due secondi e non saremmo mai decollati. E se fossi stato io? Cosa vuoi sapere? Mi avresti abbandonato così? Non lo so. E invece lo sai. Esitare è uguale buco nella testa, Ray. E se lo sappiamo entrambi? Non c'era altro modo. C'è sempre un altro modo. Non sempre. E da quando? Da quando sei il capitano. Qui retribuzione. In ascolto, Ghetto. È arrivata una richiesta d'emergenza. Tempo all'arrivo? Arriviamo subito. È richiesto subito in plancia, capitano. Roger, abbiamo civili a bordo. Ricevuto. Prepariamo tutto. Chiudo. Questa giornata non è ancora finita. Vediamo di darci una calmata. Combattiamo il nemico, non tra di noi. Continua a fare quello che ritieni necessario. Reyes mi spiace per Omar. Anche a me, Solter. Tenente, Solter. Qui ci pensiamo noi. Caporale, poi mi raggiunga in plancia. Signor, capitano. Da questa parte. Dai, dici tutto. Che è successo, Ethan? Un SOS da ferro. Lo trasmetto subito. La Tigris è sotto attacco. Siamo in contatto con Ferran? Le esplosioni solari bloccano i canali. Gator sta cercando di localizzarli. Problemi con la ricognizione? Abbiamo salvato delle vite. Ma non è andato tutto liscia. In che senso, Tenente? Il Sorgente Maggiore non ce l'ha fatta. Ne sono addolorato. Gator, sono con il Capitano. Arriviamo. Capitano al comando. Isolare la plancia. Agli ordini. Ho la posizione della Tigris, signore. Inserire le coordinate. Saltiamo appena pronti. Agli ordini. Tenente Solter, Jekyll in allerta. Raven pronti a evacuare i superstiti. Reyes, forse non... Solter, fallo e basta. Signor, sì. Capitano, hai una notifica prioritaria dell'ammiraglio nel tuo ufficio. Comando al Tenente Solter. Questo è un briefing classificato sul prigioniero Ryan. Identificarsi. Capitano Nick Reyes. Capitano, nave in posizione. Dovresti tornare in plancia. Capitano Ferra. Salt, mobilita una squadra di soccorso. Non c'è nessuno, Reyes. Gator, avvisi il ponte di volo. Andrò io stesso. Vengo con te. Capitano, non c'è alcun segno vitale. Sono tutti morti. Una boa di segnalazione. È vicina. E... ce l'ho. C'è lo schermo. Subito. Qui ammiraglio Sail and Coach dell'Olympus Mons. La nave Tigris dell'UNSA è distrutta. Vi assicuro che i nemici del fronte non avranno scappo. Ora mi rivolgo a voi, della Retribution. Noi continueremo a combattervi dentro e fuori il vostro mondo, ormai in ruina. Le vostre città si arrenderanno senza più alcuna forza. Perché noi non falliremo. Mars Eternum. Vesta è stato un diversivo. Per togliere di mezzo nuio la Tigris. È stata un'imboscata. Il caporale ha ragione, capitano. Brooks non è più caporale. Ora è un sergente. È al comando di tutti i marini a bordo. Ne sono onorato. Meglio contattare subito l'ammiraglio Reigns. No. Omar diceva che bisogna prendersi le proprie responsabilità ed è quello che fa. Visualizza. Ethan, registra. Bene. Lo Stratcom ci manda in missione e veniamo colpiti. Questa volta la Tigris. La prossima a noi. Rispetto l'ammiraglio, ma così non si va avanti. Alziamo la bandiera nera e andiamo all'arrembaggio. Approvo, capitano. L'SDF sorveglia dei bersagli potenziali in questo punto. Ci serve una svolta. Tenderemo un'imboscata sulla terra. Sulla terra? Atterriamo l'Olympus a Ginevra e la neutralizziamo. Ottimo piano. Posso chiedere come, capitano? Abbiamo accesso a un trasponder SDF che è stato impiantato nell'agente che ha sabotato gli ATIS a Ginevra. Una missione suicida. Avrebbe smesso di trasmettere una volta morto l'agente. Quindi l'interruzione del segnale avrebbe indicato il successo del sabotaggio? E avrebbe dato il via libera. La flotta avrebbe invaso subito. C'è un problema. Gli ATIS non saranno offline. L'SDF dovrà credere che lo siano. Così resteranno fregati. La loro flotta non avrà scampo. Sarà una trappola. Quelli pensano di essere più furbi di noi. E la Retribution? Resterà a guardare da lontano. Ne ha passate troppe. Sarà il sicuro fuori dall'atmosfera. Ma aumenterà i tempi di intervento. Non potremo fornire supporto. Un salto nell'atmosfera sarebbe catastrofico. Anche soltanto le onde d'urto spazzerebbero via tutto. Speriamo non serva. Ethan, metti al lavoro i tattici. Prepara un rapporto e invialo allo stratcom. Agli ordini. Potrebbe chiudere la guerra, capitano. È quello che spero, Brooks. Prepari gli uomini. Equipaggiamento d'assalto. Signor, sì. Mac, non ci lasci a corto di energia. Agli ordini. Voglio quella nave, Reyes. Andiamo a prendere l'assurdo. Pronti, capitano. In attesa di nuovi ordini. Signore, è stato aggiunto un indicatore di missione sulla terra. È la... Capitano. Tenente. Oggi abbiamo subito gravi perdite. Il capitano Holder e Ferran. E il sergente Omar. Ucciso su Vesta 3, signore. Mi spiace. Era un bravo uomo. Ottimo marino. C'ero io al comandare. Non è colpa sua. Non possiamo permetterci giudizi a posteriori. Ho saputo che lo stratcom approva il suo piano per Ginevra. Al suo segnale, il prigioniero sarà trasferito al quartier generale. Una squadra medica rimuoverà dal soggetto il Trasponder, che sarà immediatamente incenerito. Piloterò un Raven alla base UNSA. Sarà il nostro centro operativo. Se tutto va bene, la flotta SDF, Olympus Mons compresa, riceverà il via libera e scenderà nel nostro spazio aereo, provocando così un contrattacco degli Atis. Ben fatto. Top get, chiudo. Andiamo. Si torna a casa. Finalmente. Allarmi collisione. Salto in 3, 2, 1. Valutazione. Direi buona. Precisione 98%. Ci sta prendendo la mano, Gator. Dovrebbe vedermi in moto. Deve farmi fare un giro. Deve farmi fare un giro. Pronti all'uscita. Assetto di sorvolo. In 3, 2, 1. Rapporto. Margine d'errore 0%. Perfetto, Capitano. Lavoro eccellente, Gator. Miglior equipaggio del sistema. Non ci piove. Al ponte di volo, Capitano. Resti nelle retrovie, Gator. Se ho bisogno, la chiamo. Difficile saltare in quell'atmosfera. Ricevuto. A lei il comando. Beh, o sarà un colpo di genio di proporzioni epiche. O? O? Sarai degradato e io ti darò ordini. Torniamo a casa, visto? Non era il ritorno che avevo in mente. Capitano? Tenente? Griff? So che scenderete sulla nostra cara vecchia terra. Sarà la resa dei conti, Griff. Quelle macevie forniranno molti nascondigli ai nostri nemici. Adad e Sheikar aiuteranno a stannarli tutti. Grazie, Griff. Sempre affidabile. Mi raccomando, laggiù. Non deve perdere di vista quel bene. Il prigioniero è all'oscuro di tutto. Lo lasceranno vivere? Convenzione di Ginevra, articolo 3. Peccato. Arrivo! Tenente. Capitano. Dopo ciò che hanno fatto alla Tigris, vorrei andare giù con voi. So come ti senti. I marine stanno caricando l'uomo. A voi, Reventura. Siamo pronti a partire, Capitano. Incomodatevi, signore. Stanno caricando il prigioniero. C'è il Maggiore August in linea. L'essignazione è consente. Passalo sulle nostre interfacce. Vediamo che succede laggiù. Ricevuto. Vedi anche tu, So. Perfettamente. Capitano Reyes. Maggiore. Questo stronzo è una mina vagante. Va sedato immediatamente. Ecco, è a 5 minuti dall'edificio UNSA. La città è stata evacuata per agevolare il convoglio. Ci muiremo a bui all'ammiraglio del padiglione medico. Tempo all'arrivo? 3 minuti. Ce la faccio in 2. Roger, chiudo. Separazione ok. Un minuto all'atmosfera. Raven a controllo. Scara 1-2. Autorizzare ingresso. Ricevuto 1-2. Ingresso autorizzato. Bentornati a casa. A tutte le unità. Ecco Victor in contatto. Fuoco nemico. Ecco il convoglio, Reyes. Ricevuto. Andiamo. Roger. Visuale sul convoglio. Avviciniamoci. Accia! Topcat qui 1-1. Conveglio distrutto. Ripeto, ecco distrutto. Rotta con promessa. Ricevuto 1-1. Non abbandonate il bersaglio. Non possiamo perdere quel trasponder. Ricevuto. Scar 1 all'inseguimento. Facci scendere, Salt. Ok. Ethan, vai avanti tu. Non posso avvicinarmi di più. Salt, posizione d'appoggio. Attendi rapporti. Ricevuto, in attesa. Prova il veicolo, Ethan. Di qua. 1-1 a eco. Mi sentite? Eco, qui 1-1. Mi ricevete. Attenzione, Capitano! Veicolo davanti a noi. Beh, andiamo. Maggiore, medico in arrivo. Dov'è il prigioniere? L'hanno preso. Dallo retro! Vai, Capitano. Qui ci va in sui. Fever! Voglio silenzio radio in questo settore per isolare il bersaglio. La vedo brutta, Ryder. Solti. Trovo un terminale e spegne il trasponder. È finita. Ricevuto. Arrivo con il mare. Uno mi insegue. Uccidetelo. Fuoco! Fuoco! Uccidete quel fattato! Uccidete quel fattato! Qualcuno li vede? Non fermiamoci! Arriviamo al padiglione! Che cazzo è il padiglione? Forza di terra, Dariana e di ventola, il comandante Lai. Ma se vuoi? Vuoi lo strusco? Questa zona è controllata. Adressate all'entese. All'interno. Solti. Sinistro. A sinistra. È tutto pronto? Quasi, signore. Menegazio! Menegazio! Merda. Maestro, maestro! Solti da me! O che è il fruio? Che lo sei, il rato? Maestro! Maestro, maestro! Maestro! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.